I sindaci abruzzesi, nella maggior parte dei casi, hanno deciso di disertare l'incontro voluto dalla concessionaria strada dei parchi per illustrare lo stato di salute e i lavori, la situazione complessiva delle autostrade che ricadono nella regione Abruzzo. Alla riunione erano stati invitati circa un centinaio di sindaci, se ne sono presentati però soltanto pochi. I rappresentanti dei comuni di Terra, Mocchieti, Avezzano, Borgorose, Celano, L'Aquila e il sindaco di Pescara. Alcuni sindaci in realtà già avevano annunciato che non sarebbero stati presenti e lo aveva confermato il sindaco di Cazzoli, Velia Nazario. L'amministratore delegato di strada dei parchi, Cesare Amadori, e il vicepresidente Mauro Fabris hanno illustrato a tutti lo stato di salute delle autostrade. Le verifiche stati che garantiscono hanno detto che non ci sono problemi sui viadotti a 24 e a 25, lo stesso per il viadotto di Cazzoli. L'amministratore delegato di strada dei parchi, Cesare Amadori, ha risposto anche per quel che riguarda la caduta dei calcinacci che si è verificata nei giorni scorsi dal viadotto di San Giacomo all'Aquila. Paradossalmente la scossa di 6.3 dell'Aquila del 2009 ha detto «Ci fa dire che i viadotti sono sicuri, fino a quella magnitudo. Per il resto, per andare a trovare altre risorse, abbiamo bisogno di un piano finanziario. Ci siamo rivolti alla Cassa Depositi e Prestiti, ha chiarito, la quale però ci ha detto che senza progetti i soldi non possono arrivare. Noi di fatto siamo succubi delle decisioni del Ministero». Dal novembre 2016, ha detto pure i ramadori, ci sono 300 milioni di lavori urgenti con progetti approvati fermi al Ministero che non possono andare avanti per mancanza di risorse. I sindaci presenti hanno chiesto le condizioni di salute dei piloni e dei viadotti perché lo stato di ammaloramento a prima vista si vede. L'amministratore delegato ha voluto tranquillizzare tutti riferendosi appunto agli ultimi distacchi di cemento all'Aquila, spiegando che delle cadute d'intonaco possono preoccupare ma sono insignificanti rispetto ai problemi strutturali o sismi. Autostrada per i parchi ha investito moltissimo in questi anni, oltre 700 milioni tra investimenti e lavori di manutenzione ordinaria. Oggi aspettiamo che il Ministro Toninelli renda disponibili risorse, come ha annunciato ieri la Camera, per avviare la seconda fase della messa in sicurezza appunto a fini antisismici dell'autostrada e poi soprattutto aspettiamo un nuovo piano economico-finanziario che una legge del 2012, quindi siamo in ritardo i sei anni ma non per colpa nostra, il Parlamento italiano ha deciso proprio perché strada dei parchi, che è infrastruttura strategica per la protezione civile, non è stata costruita secondo i criteri dell'antisismica, quando viene fatta non l'abbiamo fatta noi l'autostrada, l'ha fatta lo Stato e dunque questa norma, questa legge del 2012 prevede la messa in sicurezza con le nuove normative antisismiche. Come abbiamo detto più volte l'autostrada è sicura in condizioni di esercizio normale, l'autostrada ha bisogno di essere messa in sicurezza antisismica perché a fronte di terremoti importanti come quelli che purtroppo abbiamo avuto sull'Aquila queste garanzie non ci sono. Grazie.